Scala in curva, abbiamo visto sopra la particolarità di una scala di cemento a faccia vista, qui ne vediamo praticamente un'altra, qui siamo invece con il nostro amico Franco, si illustrano un attimino che cosa stiamo facendo praticamente su questa scala qui, che non è più a faccia vista in legno, con le tavole in legno, ma è una faccia vista con una struttura a metà, che è una struttura già pronta, come potete vedere, ecco qui praticamente come viene di forza, questa serve praticamente per stagomare il cacciatore che poi viene sentato l'interno, ecco qui come arriva qui questa scala, arriva a mano, arriva con la gru, come viene a essere con la gru, ecco, cioè viene appesa praticamente da sopra, è calata esattamente sul tracciamento giusto della scala, come si regola, cioè come viene impostato questo? Quattro pezzi separati. Si può spiegare praticamente di più il sistema di come si monta, cioè come... Si monta, non sopra l'altra e si mette in gru. Primo, prima, si treva in sotto. Siamo qui anche con il nostro amico Maurizio, che praticamente è il giovane tra passero, che coordina praticamente la squadra delle carpenterie in questo cacchiere molto grande e ci spiega lui in dettaglio praticamente come avviene il procedimento di armatura di una parte di scala rotonda e qui abbiamo per esempio usato una struttura metallica, non più in legno, come abbiamo visto in precedenza, come mai? Per fare molto più in fretta, visto che ci sono molti ascensori, ce ne sono diversi, allora abbiamo utilizzato questo cacchiere in ferro e infatti nelle prime scale, i primi ascensori li abbiamo fatti in strutture in legno e in economia, siccome il costo era molto eccessivo abbiamo pensato di fare questa struttura in ferro legata... E' come questo tuttura in ferro non l'avete fatta voi, è arrivata già fatta? Si, è già fatto il fabbro, sono quattro pezzi singoli che unendoli fa un altro pezzo e... Come vengono fermati questi pezzi? Sono legati a morsetti, a vitoni con cacchiere in legno, pannelli in legno e viene un unico oggetto poi. Grazie a tutti!